Siamo alla BCC Arena dove fra pochissimi minuti si esibirà la grande orchestra italiana Bagutti per una serata importante, una serata di apertura della stagione della BCC Arena. Non poteva essere diversamente che ospitare una grande orchestra, una grande performance, ritorna la grande orchestra italiana Bagutti. Qui abbiamo Gianmarco Bagutti, seconda generazione. Ah, è vero. È vero. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Però c'è ancora il giorno e quindi... Un figlio d'arte, una grande orchestra da ballo italiana. Insomma, a Fano vi trovate bene? Molto. L'anno scorso abbiamo fatto un bel evento, un evento che è stato vincente e molto apprezzato. Direi che quest'anno ritorniamo con una nuova formula, un grande allestimento, ma la prima di una serie, una serie che sarà curata tanto perché di eventi così importanti è bene farne uno ogni tanto. Questa serie si chiama Siamo l'Italia che balla. In questo caso ci sarà l'orchestra italiana Bagutti e cinque artisti importanti che fanno parte del nostro cast. Sto parlando di Matteo Tarantino, di Daniele Tarantino, di Omar Lambertini, di Mariana Lanteri e con noi un'ospitata di un caro amico, Iose Lito. Quindi, dai, una serata particolare. Sono anche tanto felice che oggi, devo dire, è la prima giornata di vera estate. Forse è il 21 di giugno, è arrivata l'estate veramente, c'è il caldo, c'è una bella temperatura e quindi mi hanno detto che è tutto sold out. Sicuramente, purtroppo, da un lato meno male, ma dall'altro purtroppo tanta gente dovrà rimanere fuori e quindi per noi è già una vittoria in partenza. Poi sul palco cercheremo di dare ovviamente il massimo per far ricordare al nostro pubblico questa serata. Sicuramente, se lo ricorderanno, avete portato il sole, avete portato il bel tempo, quindi insomma, noi li lasciamo perché hanno appena terminato il check sound, sono tutti schierati ancora per noi sul palco e quindi, insomma, in bocca al lupo e tanta buona musica. Crepi, 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 crepi. Ciao, grazie di cuore, un bacione.